al omra virtù e regole una nostalgia che non si interrompe ed un desiderio che non finisce e i cuori delle persone verso la casa di allah si dirigono e l'acqua di zamzam sazia il dissetato ed è grazie di allah onnipotente che ha reso continuo il legame tra i suoi servi e la sua casa il messaggero di allah che le preghiere e la pace di allah siano su di lui disse l'omra dopo l'omra è un'ispiazione per ciò che c'è tra di loro e un haggia accettato non ha ricompensa se non il paradiso e l'omra è l'insieme di ihram, circumambulazione, cammino ossia sa'i, rasatura o accorciamento dei capelli e la sua descrizione è che la persona entra in condizione di ihram dal punto del miqad si toglie i vestiti, si lava e mette il profumo l'uomo indossa due teli, uno superiore ed uno inferiore e l'ideale è che siano bianchi mentre la donna indossa tutto ciò che vuole degli abiti consentiti senza adornarsi di alcun ornamento, tranne il neqave e i guanti e si copre il viso dagli uomini abbassando il velo avere poi l'intenzione di entrare nel rito dopo la preghiera obbligatoria oppure dopo aver fatto una sunna dell'aboluzione o simile il muhrim deve allontanarsi dai divieti delle ihram come rapporti sessuali, cacciare, fidanziamento, contrarre matrimonio per uomini e donne e per gli uomini evitare di coprirsi la testa indossare vestiti come la camicia, pantaloni, calzini o simili e sunna dire la talbia dicendo e continua a recitare la talbia fino a raggiungere Mecca quindi interrompe la talbia ed inizia la circomambulazione ossia il tawaf quando raggiunge la sacra moschia vi entra facendo precedere il piede destro dicendo Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma affirli zambi waftahali abu'aba rahmatik poi procede purificato ad una circomambulazione ossia il tawaf cominciando dalla pietra nera toccandola e baciandola se gli è possibile altrimenti lo indica dicendo Bismillah wa Allahu Akbar Allahumma imanam bik wa tasdiqam bikisabik wa wafaam bi'ahdik wa attiba'an li sunnati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pone poi la Ka'ba alla sua sinistra ed esegue sette volte la circomambulazione iniziando dalla pietra nera e terminando sempre in essa e sunna per l'uomo farli atabah durante tutta la sua circomambulazione ponendo il centro della sua veste sotto la sua spalla destra e le estremità alla spalla sinistra facendo poi ramel nei primi tre giri ossia una camminata veloce a passi corti e ogni volta che raggiunge la pietra nera fatta kbir Allahu Akbar quando si trova tra il rukna al-yamani e la pietra dice Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina'adha banar nel resto della sua circomambulazione si rivolge ad Allah con ciò che preferisce tra suppliche, ricordo di Allah lettura del Coran senza dedicare ad ogni giro una specifica supplica terminata la circomambulazione rimuove l'atabah e si copre la spalla dopodichè prega due rakat dietro il maqam di Ibrahim se gli è possibile altrimenti in qualunque posto della moschea legge nella prima rakat surat al-kafirun e nella seconda surat al-ikhlas dopodichè si dirige per la marcia tra Safa e il Marwa e quando si avvicina Safa recita inna Safa wal Marwa tamin sha'a irillah inizio con ciò con cui Allah onnipotente ha iniziato questo all'inizio della marcia poi sale sul Safa si rivolge verso il Qibla ed alza le mani glorifica e loda Allah e poi dice ripete questo tre volte facendo tra l'una e l'altra le suppliche che preferisce e non fa suppliche dopo la terza poi scende verso il Marwa e quando raggiunge i due segnali verdi l'uomo corre con sforzo tra di essi e quando li supera cammina come in precedenza quando raggiunge il Marwa Vici sale e si rivolge verso il Qibla e fa ciò che ha fatto sulla Safa alza le mani glorifica e loda Allah e poi dice ripete questo tre volte facendo tra l'una e l'altra le suppliche che preferisce e non fa suppliche dopo la terza quindi discende dal Marwa correndo verso il Safa facendo come ha fatto tra il Safa e il Marwa al completamento di sette tratte dal Safa al Marwa è una tratta e dal Marwa al Safa è un'altra tratta si rade poi i capelli o li accorcia e la rasatura è meglio mentre la donna accorcia le punte dei capelli della lunghezza delle punte delle dita così facendo la sua Omra è completata e risolve il suo Ihram chiediamo ad Allah onnipotente di accettare dai pellegrini la loro Omra e le loro buone azioni